Com'è che lo chiamano Federico? Il fideo, lo spaghettino. Facile capire come mai. Beh, originariamente era proprio filiforme, arrivava al campo sporco di carbone perché il papà glielo faceva trasportare azienda di famiglia, giocava nel Torito, un piccolissimo club di Rosario, lo prendono le Canaglias, ovvero sia il central, perché sono di visita Canaglias e Leproso risale a un vecchio episodio, ma Canaglias di nome è di fatto perché l'accordo è 26 palloni, a oggi non li hanno ancora dati, sarete 26 brazucas che vi avanzano, diamoli a quelli del Torito. È un giocatore che ti fa due ruoli con la stessa qualità, la stessa corsa, è un giocatore che raccorda centrocampo attacco ma si sacrifica anche in fase difensiva. Tolto Messi, che fa parte di un altro sport, a mio modo di vedere, Di Maria è il giocatore più importante nell'Argentina come il più importante ed era al Madrid tolto Cristiano Ronaldo. E poi com'è possibile che i suoi compagni di club e avversari del Reale e dell'Atletico, quelli che sono andati fino all'ultimo respiro in Liga, fino all'ultimo respiro in centrocampo alla metà di lui se hanno fatto la stessa stagione. Lui andava il doppio di tutti l'altro giorno. Se poi sbaglia qualche palla a livello tecnico, non dimentichiamo che magari ha fatto poi 70 metri slalomeggiando, scattando, dribblando.